Ciao a tutti e bentornati su About Biology. Negli scorsi video abbiamo visto quali sono stati i primi tentativi di descrivere atomi e molecole. Se non li hai visti ti consiglio di recuperarli, trovi sempre il link qua sotto in descrizione o qua in alto a destra nelle schede. Questi tentativi portarono però soltanto a dei successi illimitati che videro un ulteriore sviluppo nel 1900 con Max Planck il quale propose un nuovo modello ipotizzando l'esistenza di orbite stazionarie o stati stazionari nelle quali gli elettroni si muovono senza irradiare energia. Planck scoprì inoltre che atomi e molecole emettono energia solo sotto forma di quantità discrete che chiamò quanti. Il quanto infatti dal latino quantum ovvero quantità è definito come la quantità elementare discreta e indivisibile di una certa grandezza. La teoria dei quanti di Planck sconvolse la fisica e il comportamento degli elettroni spiegato dalla meccanica quantistica derivò da una serie di esperimenti nei quali gli atomi venivano indotti o tramite calore o tramite delle scariche elettriche ad emettere luce. Ma che cosa intendiamo per luce? La luce è una radiazione che si propaga anche nel vuoto a velocità molto elevata. Nella seconda metà dell'Ottocento il fisico e matematico scozzese James Clerk Maxwell scoprì che le radiazioni luminose sono delle radiazioni elettromagnetiche che hanno la stessa natura dei raggi X, dei raggi ultravioletti e delle onde radio. A causa quindi della loro natura questi possono essere descritti come onde e per descrivere un'onda noi dobbiamo far riferimento a ampiezza, lunghezza d'onda, frequenza e velocità. L'ampiezza è definita come la distanza verticale tra la linea mediana di un'onda e un suo picco o una sua valle. La lunghezza d'onda invece è per definizione la distanza tra due punti uguali su due onde successive quindi ad esempio tra un massimo e un altro massimo o un minimo e un altro minimo e questa è indicata con la lettera lambda. La frequenza è invece il numero di onde che passano per un determinato punto in un secondo e in altre parole è il numero di cicli compiuti in un secondo indicata con la lettera greca ni. Infine abbiamo la velocità che è data dal prodotto della lunghezza d'onda per la frequenza e facendo un'elementare analisi dimensionale capiamo che queste sono le dimensioni di una velocità perché se lambda ha le dimensioni di una distanza sul numero di creste e la frequenza ha il numero di creste sul tempo allora dimensionalmente il risultato sarà una distanza sul tempo ovvero una velocità. L'insieme delle radiazioni elettromagnetiche che sono ordinate in base alla lunghezza d'onda e alla frequenza costituiscono lo spettro elettromagnetico e ogni porzione dello spettro avrà quindi una certa frequenza e una certa lunghezza d'onda. Ma cerchiamo di tornare al nostro discorso sui modelli atomici. Tutto questo ci serviva per capire che quando vengono riscaldati i solidi emettono delle radiazioni elettromagnetiche su un largo spettro di lunghezze d'onda e le misurazioni che vennero fatte dimostravano che la quantità di energia radiante emessa da un corpo a una data temperatura era correlata alla lunghezza d'onda della radiazione emessa. Le radiazioni elettromagnetiche quindi trasportano energia e la trasmettono ai corpi con cui entrano a contatto. Questo è un concetto fondamentale ed è infatti qui che entrò in scena Planck con la teoria dei quanti il quale andò a spiegare come atomi e molecole riuscivano ad emettere o assorbire energia soltanto in quantità discrete ovvero i quanti che successivamente furono chiamati fotoni. L'energia posseduta da un singolo quanto di energia è quindi data dalla costante di Planck per la frequenza della radiazione. Questo aspetto implica che l'emissione o l'assorbimento di questa energia può essere possibile solo secondo dei multipli interi di una quantità di base che è pari alla costante di Planck e la frequenza Ni. Con questa legge Planck collegò fra di loro le due descrizioni della radiazione elettromagnetica ovvero l'energia del fotone che si riferisce a una proprietà delle particelle e la frequenza che si riferisce invece a una proprietà delle onde. Alla luce di tutti questi lavori e dell'importante contributo di Albert Einstein sull'effetto fotoelettrico di cui avremo occasione di parlare in un altro video, iscriviti quindi per non perdertelo, il fisico danese Niels Bohr propose un nuovo modello in cui ipotizzava l'esistenza di orbite stazionari o stati stazionari nei quali gli elettroni si muovono senza irradiare energia. E anche per quanto riguarda spettri di emissione stato fondamentale e citato parleremo in un prossimo video. A noi per il momento serve sapere che l'analisi degli spettri di emissione fornì a Bohr un'indicazione precisa sul comportamento degli atomi. Questi infatti, quando vengono eccitati, possono emettere soltanto delle specifiche quantità di energia che sono corrispondenti ai fotoni delle radiazioni che compaiono nel loro spettro. Questo portò quindi ad affermare che l'elettrone è vincolato da alcuni livelli energetici e che la sua energia è quantizzata. Secondo questo modello l'orbita di ogni elettrone è posta a una distanza dal nucleo specifica e determinata. Le orbite sono quindi quantizzate. Un elettrone quindi appartiene a un'orbita stazionaria, cioè non emette energia e può muoversi indefinitamente senza irradiare. E questo se vale la relazione seguente. In questa relazione il raggio delle orbite stazionarie è legato alla costante di Planck, la massa dell'elettrone, la sua velocità, una costante di 2π e n che è un numero intero che può assumere tutti i numeri interi maggiori di 1, che Bohr chiamò numero quantico principale. Non ti preoccupare perché di questo parleremo nel prossimo video. Secondo Bohr infatti l'energia di un elettrone in un atomo cresce al crescere di n. La posizione dell'elettrone quindi dipende dal suo contenuto energetico. Infatti più un elettrone si troverà lontano dal nucleo e maggiore sarà la sua energia avendo quindi un n maggiore e al contrario più un elettrone si troverà vicino al nucleo minore sarà la sua energia e minore sarà il suo n. Un atomo inoltre può scambiare energia con l'esterno solo se un elettrone passa da un'orbita stazionaria a un'altra orbita stazionaria. E se questo avviene l'energia scambiata è pari alla differenza di energia tra i due stati coinvolti nella transizione. Ma per molti anni né la fisica né Bohr hanno capito il perché un elettrone di un atomo fosse costretto a orbitare attorno al nucleo a certe distanze prefissate. Questo fino a che nel 1924 il fisico francese De Broglie trovò la soluzione al problema ipotizzando che all'interno degli atomi gli elettroni non si comportassero solo come delle particelle ma anche come onde. De Broglie quindi suggerì questa equazione dove h è la costante di Planck, m è la massa della particella e v la sua velocità. Questo andava a fornire un collegamento tra onda e particella e portò alla conclusione che le onde possono comportarsi come le particelle e che le particelle possono presentare proprietà ondulatorie. Una particella in movimento poteva quindi essere trattata come un'onda. Questo avvalso il Nobel a De Broglie nel 1929 e ha aperto la strada al modello ondulatorio dell'atomo. Ma di questo e molto altro parleremo nel prossimo video. Ti consiglio quindi di iscriverti al canale per non perdertelo e di continuare a seguire About Biology anche sulla pagina Instagram e il gruppo Telegram per non farti sfuggire molti altri contenuti a tema biologico e scientifico e inoltre restare aggiornato su tutto quello che riguarda la pagina. Noi possiamo sempre sentirci qua sotto nei commenti per eventuali domande, dubbi o semplicemente per farmi sapere se il video ti è stato d'aiuto e per il momento è tutto. Ti ringrazio per l'attenzione e a presto da About Biology! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!